Siamo al museo della lingua portoghese e ci stanno leggerissimamente prendendo per il culo Vedete che mette teus olio, olios, seria teus olios, non è teu olio Sopretto, pretto, con due t, capito? Pindurato una giannella, giannella sarebbe la finestra, sarebbe appeso alla finestra Ma non si dice giannella, si dice giannella con giota Insomma, è una bella presa per il culo perché qui scrivono la divina increnca E solo per darvi un'idea, tra il 1870 e il 1907 gli italiani emigrati in Brasile sono 1.208.000 Più di tutti Poi diciamo che scendono un pochino, ma comunque nel totale sono quelli che sono emigrati di più in Brasile 1.565.000 Oggi circa il 50% della popolazione brasiliana, se non sbaglio, ha origini italiane Comunque, dopo questa presina per il culo, noi andiamo avanti Ah, ma sono chi? Ti puoi spiegare chi è R.S.C.A.R.? Chi? Chi ha scritto questo? Capo ad un libro... Allora, qui spiega chi è questo tizio che ha scritto questo Era lo pseudonimo di questo Alessandre Machado Che in una decada G-Days, 1910 Pubblicò sui giornali di San Paolo Cronache e versi scritti in una lingua ibrida tra portoghese e italiano Che si... diciamo che viene conosciuta dopo come portoghese maccheronico Come il nostro italiano maccheronico Insomma, questo tizio ci prendeva bene il culo Ecco, adesso lo sappiamo Potete odiare i brasiliani un po' di più adesso Grazie